Ragazzoli benvenuti su questo nuovissimo video. Ragazzi nuovissimo format. Bene sì ragazzi ho deciso di portare diciamo un qualche contenuto diverso rispetto al solito gameplay qui sul mio canale di youtube. Io vi invito a lasciare subito un bel mi piace perché l'obiettivo per riportarvi questo youtuber sul mio canale e questo tipo di format è di 15.000 mi piace sotto questo video. Quindi spaccate di like questo video e arriviamo a 15.000 ragazzi perché se ci arriviamo riporteremo questo format un'altra volta. Intanto ragazzi come sempre vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore che trovate qui sopra. Codice creatore creato mi sono nell'item shop di fortnite. Quindi niente ragazzi non perdiamoci in chiacchiere perché già ho parlato fin troppo guardatevi questo fantastico video ragazzi perché vi divertirete come non mai. Fidatevi ragazzi quindi una buona visione. Allora Loss oggi una bella sfida che è una rivincita. Ok? Sì. Conosco benissimo questa sera. Intanto mi devi dire se sei carico. Carichissima guarda. Ok allora andiamo a palmetto. Ragazzi. Sono carico a rubarti tutte le kills. No no sarà al contrario. Ragazzi la sfida è semplicissima. È molto semplice. Semplicemente vince chi fa più kill e possiamo rubarci la vicenda. Quindi ovviamente Loss andrà a terra. Io farò 20 kill e mincerò la sfida. È così che ho predicato tutto. Vedremo. Vedremo. Fatto sta che la prima è andata come è andata. Quindi io mi concentrei più nella seconda. Ok ok giusto onesto. Allora. Questa ora scendiamo. Ok. Marta una. Carichi ragazzi mamma mia. Arrivando anche il suo compagno qui. Oddio quanti sono. Oddio. si. Arrivando. 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 Arrivo arrivo. E che avevo solo una k. Oh che c'è che arrivano altri due Sono quattro, cioè se ti fesco qui Non voglio, non voglio Se queste qui Vanno in vantaggio troppo E vabbè Dove hai trovato te quelle armi? Mamma mia Ho un vantaggio allucinante Non ci credo Non è giusto Andiamo alla card ragazzi Va bene Va bene Ti pingo questo che c'è Un bel pompa Da dove arrivi? Da dove? Ho preso due casse Ho preso una vending E il pompa l'ho preso dal tizio Ok Dai onesto Però vabbè se c'è altra gente E nel dubbio ti resta No non c'è nessuno Nel dubbio il resto Non è una brava ragazza Diciamo dobbiamo ricordare secondo me Cosa succede a chi perde la sfida Ovviamente Almeno che non l'hai già spiegato nella tua intro Eh no Perché chi perde la sfida Deve regalare una skin ad altra persona Sì ragazzi Tenendo conto che abbiamo già fatto La prima parte di questa sfida Da me Qualcuno potrebbe Dico potrebbe Regalare addirittura due skin Dipende come va È vero C'è questa partita Comunque mi dai un po' di proiettili Gentilmente Allora guarda Un po' di AR E giusto un po' di piccoli O un po' purtroppo no Eh no no E vabbè Dopo guardo il video E vedo quanti Cosa vedo Tenevo stare Cinque Non di più Guarda Guarda che ce l'ha Guardo Ho dovuto minacciarla Appena detto guarda i video Mi sono sentita un pochino alle strette Ok aspetta Meglio Meglio di no Ragazzi devo recuperare cinque kill Ricorda che ti ho rezzato eh Io potevo non rezzarti E andare avanti Me lo ricorderò Me lo ricorderò A tempo debito Oh E questo che piove Mamma mia ragazzi Carichi No dietro ce ne sono altri Torna questo maledetto albero Ma ma hanno rubato la kill Eh sì Pieno di team Lo ci so Eh pieno di gente Io non ho materiali Non ho più niente Sono nella cacchina Che si può dire Non so quanti materiali tu Cade Ma ti mazzano questi Oh mamma mia Sono pieni Oh Eh mi hai cecchinato Stavo cercando di tirarli giù Ma brutta scelta Brutto che siamo qua al centro Non so se a questo momento Potrebbero arrivare No mi hanno stirato la kill Però l'ho ci so uno Uno l'ho ci so Sì l'altro l'hanno ci so gli altri Nooo Vabbè L'altro non so niente dov'è E niente Arriva lei Nooo È lo stila ragazzi Mamma mia Scusa quanti kill Se posso domandare Questa Questo quesito Guardiamo ragazzi Voglio piangere No no mi fai vedere quanti kill hai Ragazzi non fatevi c'è Ragazzi è una Una persona Ce la fate Devo farmela a piedi Sono dei fake no skin questi Non mi sembrava un po' un caramellino E niente Ah mamma mia ragazzi Faccio schifo Ragazzi L'ho cecchinato mentre saltava Lo so L'ho citato E pazzesco Ci sono uno scelto ne qua Non so che fare ragazzi Io non so che fare Ragazzi io non so voi Ma io sento già profumo di vittoria Ma soprattutto di una skin A mio piacere Regalata Cioè potrebbe essere una skin Di 20 euro Che potrebbe essere mia Gratis Non parole Non parole Vabbè distacco Distacco di quante Due kill Quante ne hai scusa Sì magari Non posso vedere Una ne ho Una Ma no vabbè io ne ho quattro Dai Ma non ne hai quattro Tutte le hai fregate Ne ho dieci Ne ho dieci Ragazzi no perché siamo in dodici Cioè ne ho dieci È vero È vero Se ne muore anche soltanto uno A posto Basta Questa zona mi piace solo per un motivo Infatti quando entri dentro la zona È molto più scura Se ci fai caso Dei colori sono molto più No c'è uno che va al robot È l'oss Te l'ha fatto uccidere nella mente Che dici Giove il robot Ho visto visto Che sei stato gentile Ah figato perché se fanno il robot Diciamo che Siamo fritti entrambi Ecco Non solo io Ma tutte e due No 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 tu non hai visto niente Tu non hai visto niente E niente Tutti ce l'ha ragazzi No Ma basta Poverito Ma vi è morto un play Ma basta Ma ragazzi Non può avere tutto Pusciare Non può Va bene Va bene Va bene Non fa niente Non fa niente Non fa niente Va bene così dai Aspetta quanti siamo vivi Mi sa che Mi sa che è finita Se ne sono cinque vivi C'è un robot C'è un robot E che vuoi fare Dove prendere Ah è contro Oh mamma mia Due robot contro Come due Dobbiamo ammassare Forza Va vai Vabbè vinciamo la partita Uno distrutto No ma me li uccidono pure Ma ci mettono No Ma mamma mia ragazzi Questa Martina E' un fire Oggi Ciao No 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 Tranquillo Tutto ok Sono triste Sono molto triste Ogni volta Cioè E' come se T'ho per assaggiare La kill E poi arriva Una p***tina Dal nulle Papà L'ultima L'ultima era stilata Lo ammetto Guarda c'è una con me Voglio vedere Dai Ti devi trovare due Che ti atterrano così Eh ma ormai è tardi Ormai è bella che è andata Ormai si No 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 Raga di nuovo Di nuovo No di nuovo Lo cecchino No basta Non l'aiuto più Apri E andiamo E dacci questa skin L'oss No lui perché fai quella faccia Dai Un po' di Un po' di Dai un po' di divertimento Mamma mia ragazzi Io sto morendo da ridere Perché la tua reazione E' bellissima Vuoi dire Vuoi dire qualcosa al pubblico Stima di staccare Non sono mai stato fregato Così tanto in un viso Mamma mia ragazzi Abbiamo vinto questa sfida E ci siamo portati a casa Una skin Che ovviamente Mi regalerà Quando ci sarà una skin Molto bella Magari anche costosa Così ti facciamo sborsare Ovviamente 20 euro Perché è la cosa più giusta da fare Quindi niente ragazzi Che dire Spero che questa sfida vi sia piaciuta Trovate il link qui sotto In descrizione Del canale di Lost Ma soprattutto del video Che c'è nel suo canale Che abbiamo registrato sempre insieme Quindi sì ragazzi Mi raccomando Spaccatelo di like Quanti like potremmo richiedere Se andate Lost All'incito Guarda Io direi Quante kill sei fatto? 15 Ok 1000 like per ogni kill Che mi ha fregato Quindi 15.000 15.000 like Per forza Quindi 15.000 like Per un prossimo video insieme Ci stai? Ci sto Perfetto ragazzi Quindi questa è la sfida 15.000 like E riporteremo un bel video insieme Quindi niente Lost Io ti ringrazio per questa bellissima sfida Spero che tu ti sia divertito Non avevo dubbio Perché Io mi sono divertita Tu penso anche Quindi a posto Sì sì A vedere mentre Mentre cecchinavo Vedevo Dan Infatti grazie per le cecchinate Devo dire che Quelle 4 kill Uno di vita Erano molto belle Vabbè ragazzi Ci posso prendere in giro Però mi sono divertita Veramente tanto Quindi grazie Lost E Quindi niente ragazzi Ci vediamo A un prossimo video Poo